Grazie ad un fondo nazionale creato dal taglio degli stipendi dei consiglieri regionali e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, le scuole dell'Emilia Romagna, continuiamo dunque a parlare in qualche modo di politica, potranno realizzare interventi che hanno come obiettivo comune quello naturalmente della sostenibilità ambientale. Per gli istituti sono a questo punto disponibili oltre 200 mila euro, sentiamo allora il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Bertani, sempre intervistato da Giuseppe Pilloni. Il Movimento 5 Stelle porta sui banchi di scuola la sostenibilità ambientale, ci può spiegare questa iniziativa? Sì, il Movimento 5 Stelle con i tagli e quindi le restituzioni dei propri stipendi a livello parlamentare e a livello regionale ha costituito un fondo di 3 milioni di euro, per la regione Emilia Romagna sono 208 mila euro che vengono destinati a progetti per le scuole ecosostenibili. Quindi scuole che vogliono efficientare dal punto di vista energetico la scuola, vogliono abbattere barriere architettoniche, vogliono fare iniziative educative come gli orti scolastici, possono presentare un progetto entro il 15 di gennaio e possono avere un finanziamento che va fino a 10 mila euro o a 20 mila euro a secondo dell'iniziativa presentata. L'iniziativa poi verrà scelta, i progetti verranno scelti e votati sulla piattaforma russua da parte di tutti gli attivisti della regione Emilia Romagna. Quindi ogni scuola può aderire a questo progetto? Ogni scuola può aderire, basta che presenti il suo progetto che è sulla piattaforma russua, quello che vogliamo sottolineare è che non è un'iniziativa politica, quindi non è legata né al simbolo né ai parlamentari o ai consigli regionali della regione Emilia Romagna, quindi le scuole non devono fare nient'altro che presentare un progetto ed essere disponibili a ricevere una donazione. E quei fondi sono stati raccolti tramite le vostre donazioni? Sì, i parlamentari di tutta Italia hanno raccolto 3 milioni di euro che sono stati divisi in base alla popolazione su tutte le regioni e i consiglieri regionali dell'Emilia Romagna hanno aggiunto 40 mila euro per un totale di circa 208 mila euro. Questo è il primo anno che si svolge in Emilia Romagna? In Emilia Romagna è il primo anno, in realtà in altre regioni era già stata fatta questa iniziativa e aveva ricevuto anche una buona risposta. Che tipo di progetti sono stati realizzati l'anno scorso? Negli altri anni, ad esempio, barriere architettoniche, eliminazione di barriere architettoniche, creazione di laboratori informatici, iniziative di questo tipo. Quest'anno siamo più indirizzati a iniziative di tipo ecologico ambientale e quindi di educazione ambientale ma anche di risparmio energetico, ad esempio. Grazie.